ok ciao ragazzi siamo su come potete vedere su arma 3 dopo penso qualche mese che non non ci facevo più un gameplay infatti l'ho reinstallato questa sera anche perché avevo formattato dopodiché la versione definitiva non l'avevo mai riaperta e adesso riaprendono ho notato che hanno fatto la campagna ma se non ho capito male la campagna non è la campagna completa ma è solo praticamente la rilasciano ad episodi questo è il primo episodio della campagna che è sopravvivi e si intitola riduzione forze allora difficoltà regolare ritorna 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 perché sono già tre volte che provo a a far a esc che provo a farla qua ci sono tutti filmati quindi è meglio saltarli sono già tre volte che provo a farla ma mi crashava poi mi è venuto in mente di andare nelle opzioni che erano tutte ad ultra e togliere l'occlusione ambientale perché nella mia scheda grafica non la mia scheda grafica non supporta l'occlusione ambientale quindi probabilmente era quello che me lo faceva crashare anche se prima registravo con shadow play e ho pensato magari shadow play allora ho provato con mirillis ma poi me l'ho fatto anche con mirillis e adesso niente sto registrando con mirillis comunque la grafica di sto gioco lascia sempre a bocca aperta mamma mia mamma mia ok saliamo sull'elicottero ormai la sua memoria fino a un certo punto adesso dobbiamo andare a game program con l'elicottero perfetto qui c'è una piccola intro della Bohemian Interactive dove mettono tutti i produttori chi ci ha lavorato e cazzi e mazzi dove spero che non mi contestino contenuti terze parti anche perché cioè non è un filmato ma sono io che mi sto guardando in giro quindi siamo già nel gioco per cui non dovrebbero esserci problemi l'audio l'ho già messo tutto a zero la musica almeno non ho problemi neanche su io adesso non voglio stare lì a leggere i cazzi che c'è scritto se volete leggerli leggeteli voi scusate ma c'è un raffreddore un terza persona guarda un po' beh fantastico guarda il riflesso sulla fusoliera cazzo sembra un vetro vero giochi così ce n'è veramente pochi eh con una grafica così curati così bene poi eh ma nei minimi dettagli cazzo hanno fatto il lavoro della madonna tanto di cappello qua la Bohemian Interactive Scenari pazzeschi enormi infiniti e dovranno essere quasi arrivati buona domanda buona domanda non ho idea magari qualcosa di importante sotterriamo ok ragazzi avrò 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 romino che fai segnali lo spettacolare cazzo mi sedo da qua con quegli occhialoni sembra l'uomo ragno e gli metti la tuta uguale ok salvataggio è una terza persona e andiamo dall'ufficiale che qua è stravaccato a fare rapporto ok non fai un cazzo eh beato te eh va bene ho pestato una merda ok andiamo a vedere dove cazzo è il camion il camion è qua fornisci il supporto logistico supera il checkpoint ok guidiamo noi muoviti a salire perché sennò ti lascio a piedi in questa volta hai sposto a quel cazzo di elicottero sennò te lo sposto io ok possiamo andare ma guardate la la le texture del del camion cazzo sono fantastiche guarda dove c'è il tubo di scappamento in alto a destra vedi proprio l'effetto del calore dello scarico perché hanno aggiunto le capre guardiamolo da dentro bello bello cazzo minchia il sole o ok qua c'è il checkpoint frena perché non frena un cazzo sto camion cazzo cazzo guarda gli specchi oh mamma mia cazzo che cazzo mi apri il cancello o no cazzo mi sono ma ok il passaggio è fatto Piano Ora non è cazzo facile guidarlo Sto cazzo di bestione Adesso andiamo a cammino Questi che cazzo vogliono? Vogliono qualcosa magari Oh Ciccio Si è fermata la macchina Stop the track Che cazzo c'è? Un'unica sentita roba con Camino Io intanto gli porto via la roba Cerca di rianimarlo Pussola che non ce l'ho La radio Che non ce l'ho Il GPS Sarvataggio L'orologio Ce l'ho l'orologio Non mi serve Uniforme da combattimento Gigli è leggero verde Te l'ho già Esca Però che arma hai te? Si è Era un'unica sentita È un'unica sentita E' un'unica sentita Non mi serve Capito Rogaine Ma cosa è un'unica sentita? Cosa è succese? Cosa stagione? Non mi serve Entendete L'orologio 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 A camp Ma che cazzo ci troviamo a piedi a Camprogan? Cazzo mi sa che siamo nella merda Un momento ci sa Ma che da un momento all'altro qua ci sparano Eccoli qua Porca puttana qua mi stanno massacrando Ma quanto cazzo sparano Vedo un cazzo con questo mierino Quindi? Apri gli occhi Aspetta che vediamo che cazzo hanno qua Cazzo non hanno Ma fanculo A.A.A.A.F. forze hanno Avvicinato l'aerfield E un'aerstation like 2-6 A.A.A.A.F. forze A.A.A.F. forze Fatica premi 0-8 per richiedere O non corre più il mio minus Se ti fermi in attimo A.A.A.A.F. forze Adesso mi devi dare qualcosa per curarmi Oggi però ciccio Non è che aspetta che andiamo a vedere Sul cadavere di stopirla Se c'è qualcosa Vedi chi tu un cazzo non ne hai C'è qualcosa E' un po' di chi! In fronte, contact, scuola! Ho capito! Eh, c'ho a 10! Sono fuori! D***a! Carvataggio! Meno male! Non è un buon signore! Cover and fire! Go, I'll cover! Carry, rearm! Io voglio un cazzo di medichitto, non ne ho! Non c'è un cazzo! Ho capo! E' uno di noi! Echo, a tutte le uniti nella zona di Rogaine! Siamo iniziando un punto di evac in LZ Baldy! Ok! Echo! Questo è il servizio di Sgt. Adams! Siamo en route! È solo i due di noi! C'è parte di un dettaglio da Rogaine! Ho capito! Ok, dai, dovremmo quasi esserci, eh? Ma non possiamo stagliare per sempre! Ok! E' un giudizio, Echo! Non ti preoccupi, ci saranno qui! Fuori! 100 metri in fronte! Che cazzo, ci è successo? Mi sa che ci hanno già attaccati loro prima che andassimo noi ad attaccarli, porco Giudo! Rai la Ok Li sto facendo tutti io ciccio Quello che cazzo è Andiamo a vedere di prendere Oh 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 Eh carica te cazzone No non mi piace Io però non ho più colpi cazzo Altro salvataggio Speriamo di non finire i colpi prima di arrivare alla fine West Ok Capo aspetta cazzo Aspetta cazzo Che c'è le bisce anche qua Ma che cazzo fa le corse in montagna Questo Oh mi stai facendo fare un culo della madonna Ma che cazzo questo muore? Oh Oh è bugato dentro la terra Ok Colpi non è più Non ho colpi cazzo Io non ho più colpi cazzo Ok Minchia quello è già in fuga E' bello che avevamo là il camione E poi io non ho la pistola Che cazzo faccio Ma 20 minuti di video Ma è in un posto al sicuro E meno male Perché cazzo non ho più colpi Aspetta mi porca puttana Che se mi sparano non ho un cazzo E quanto corre o Ok Siamo vivi Ma per questo Quanto ancora Ok Diciamo che La prima Il primo capitolo Della campagna Di Di arma 3 L'abbiamo L'abbiamo fatto Adesso non resta che aspettare Che buttino fuori gli altri capitoli Niente se il video Cosa è successo Non è finito ancora Non è ancora finito L'elicottero Ok E questo corre ancora Oh Ma dovrebbe essere finita Comunque perché non ho armi in mano Siamo qui da almeno un'ora Ormai Passa E incontrati con la squadra Bravo Carico signale Eccola qua l'arma Puttana Corri di come un matto Cazzo Dammi il fucile qua Mi sto cagando addosso Sono da solo Che cazzo devo fare Ok Faccia il fucile qua E avremo da lì Adesso Salvataggio partita Dai diciamo che Per oggi il video finisce qui Ok Nuovo consiglio disponibile Navigazione Premi 08 Per richiedere Salcazzo cosa Ok Procedi Chiudo Beh Diciamo che Per oggi il video finisce qui Lo riprenderemo La prossima volta Perché mi sembra Che la campagna È ancora un po' Lunghina Questo episodio Quindi niente Dai se il video vi è piaciuto Lasciatemi un like Se il video vi è piaciuto Lasciatemi un like Un commento Se non vi siete ancora iscritti Il canale Mi raccomando Date un occhio A qualche video Decidete di iscrivervi E vi ricordo Che il contest È ancora attivo Quindi Andate a vedere Anche il video Del contest E Leggetevi bene le regole Se volete partecipare Comunque dovete essere iscritti Quindi Niente dai Noi ci vediamo la prossima Su Battlefield 4 Ciao ciao I'm a chumpster Motherfucker